Dal 20 al 25 marzo si svolge in tutta Italia la settimana del Dona Cibo che quest'anno giunge all'undicesima edizione. A Giarre l'iniziativa è curata dai volontari del Centro Culturale di Giarre in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà. È positivo il dato che tutti e tre gli istituti comprensivi e molte scuole superiori vi stiano aderendo. Il cibo donato sarà poi distribuito fra Giarre, Riposto e Maschali. Il Dona Cibo è un gesto molto semplice che viene effettuato da tre soggetti che sono gli alunni, i genitori e gli insegnanti. Si svolge nelle scuole e con molto entusiasmo la larghissima maggioranza di scuole giarresi e non solo giarresi stanno partecipando al gesto. Come dicevo, consiste il Dona Cibo nel raccogliere alimenti che poi il Banco di Solidarietà che all'interno del Centro Culturale di Giarre si occupa di distribuire alle famiglie bisognose del nostro territorio. Vorrei anche ricordare che il territorio giarrese dai nostri dati conta circa 2.500 persone che vivono in stato di bisogno e che fra queste 2.500 persone ci sono circa 250 bambini. Quindi capite bene quanto sia importante questa raccolta alimentare effettuata all'interno delle scuole. Poi come ci piace dire, la carità rende bella la vita, rinfranca l'anima. Io sono uno dei volontari che mi occupo del Banco di Solidarietà e che andiamo a trovare le famiglie e comprendiamo bene in che condizioni vivono. Però mi piace dire anche un'altra cosa. È vero che c'è una necessità di un bisogno alimentare, però dietro questo scopriamo spesso tante altre cose che ci colpiscono particolarmente. A me piace dire che a volte riusciamo a far compagnia 10 minuti, un quarto d'ora a queste persone, ma per loro è molto prezioso. Non ha la pretesa di voler risolvere il problema della povertà, ma come ha detto ha un significato importante. Questo si inquadra all'interno di quello che noi identifichiamo come carità cristiana. Non è caso il gesto viene fatto nella terza settimana di quaresima. In ogni caso, come diceva bene lei, non ha assolutamente la pretesa di risolvere la povertà. È un seme, però per noi è molto importante questo seme perché questo seme dà la possibilità di relazionarsi con tante persone e soprattutto, come dicevo, fargli compagnia.